Ciao, sono Cristian, ho 21 anni e vengo da Pescara. Ho conosciuto Paolo grazie ad un amico mio. Voglio consigliare il corso a tutti quanti, perché comunque ci sono delle persone davvero meravigliose che ti accolgono e ti insegnano molto. Grazie a Paolo, finito il corso, avrò un'occasione di lavoro e sempre grazie a lui sto cercando di sistemarmi la vita. Ringrazio comunque Salvatore, Raffaello e soprattutto Paolo che mi sono stati vicino e mi hanno insegnato questo mestiere. Ciao a tutti.